Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando del murales dedicato ai due partigiani della chiasa che era stato, lo ricorderete, vandalizzato a inizio settimana, poi ripristinato subito dopo, davvero a tempo di record. Oggi c'è stato l'intervento di Ampi, sintomo, hanno detto appunto dall'Ampi, di un clima politico che si sta inasprendo. Il servizio. Un insulto tracciato con la vernice spray blu, ancora una volta è stato vandalizzato il murale in località la chiasa che ricorda i due partigiani, Giovanni Battista Mineo e Giuseppe Rosati. Il modo giusto per ricordarli è quello di ricordare due eroi, non certo quello di questi personaggi indefinibili. Mineo e Rosati sono noti come gli eroi della chiasa per aver salvato 209 ostaggi dall'ennesima strage nazista il 29 giugno 1944. La scritta è comparsa all'indomani dell'ottantesimo anniversario, proprio in quell'occasione era stata scoperta una nuova targa di intitolazione del parco. È grave perché in effetti sappiamo bene che dietro questi gesti che possono essere considerati in maniera, c'è chi li considera delle bravate, no ma non è così. Sono il sintomo di un clima politico che si sta inasprendo, insomma queste persone si sentono sempre più forti. Sappiamo bene che ormai, purtroppo, possiamo dire, certi valori sui quali si è retto la nostra società civile, dopo guerra, e uno di questi è l'antifascismo, non sono più un sentire comune della maggior parte delle persone. Il murale è stato ripristinato a tempo di record dalla brigata partigiani 25 maggio, che è coinvolto nelle attività anche giovanissimi. Voglio cogliere l'occasione anche per ringraziarli, perché per quello che fanno, non soltanto per la manutenzione di quest'opera, ma quello che fanno per mantenere la memoria di quello che è successo con la Chiazza è veramente ammirevole. Sugli autori sta indagando la Digos, che ha anche già inviato una segnalazione al Ministero dell'Interno, non esclusa un'ispirazione ideologica riconducibile alla destra estrema e neofascista. Sono fiducioso sul fatto che alla fine si possa mettere queste persone di fronte alle loro responsabilità. Spacciatore arrestato in piazza della stazione è stato processato ed è già fuori con l'obbligo di firma. L'uomo era stato arrestato in piazza della Repubblica di fronte alla stazione di Arezzo dalla polizia con l'ausilio del reparto di prevenzione crimine di Firenze nella tarda serata di ieri. Era stato trovato in possesso di tre involucri termosaldati contenenti cocaina e oltre 500 euro in contanti. In casa poi erano stati rinvenuti altre due involucri in cellofan contenenti droga, circa 30 grammi ciascuno e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, come dicevamo, era stato arrestato, poi l'arresto è stato convalidato, ma si trova già fuori perché gli sono state applicate le misure cautelari dell'obbligo di firma associato all'obbligo di dimora, in attesa ovviamente del processo. Uccise il proprio cane con una balestra. La vicenda creò un enorme sconcerto in città. L'uomo adesso è stato condannato ad un anno in comunità. Era il 5 novembre del 2023 quando un quarantenne a retino uccise il proprio cane, un rottweiler, con il dado di una balestra per poi finirlo a colpi di coltello sotto gli occhi di un vicino che allertò immediatamente le forze dell'ordine. Adesso il giudice del Tribunale di Arezzo ha disposto per l'uomo un anno di comunità terapeutica. Secondo quanto stabilito dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale, il quarantenne era incapace di intendere voleri al momento del gesto, ma capace di assistere al processo. L'uomo massacrò il cane, adottato un giorno prima in un canile privato, sul terrazzo di casa. Il vicino, sotto shock, contattò il 112. La polizia, una volta arrivata sul posto, trovò il cane ormai senza vita ed il quarantenne in totale stato confusionale dichiarò di aver visto nell'animale l'immagine del diavolo. Nelle analisi successive all'immediato trasferimento in ospedale risultò che l'uomo non aveva assunto né sostanze stupefacenti né alcol. Traffico bloccato lungo Rale Gionale 71 dove a causa di un incidente stradale la circolazione è andata in tilt. L'incidente è accaduto oggi, poco dopo le 11, all'ingresso di Castiglion Fiorentino nei pressi della zona industriale. È stata un'ambulanza ad aver tamponato un altro veicolo. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi sul posto gli agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino. Adesso torniamo invece a parlare degli assalti agli orafi, come sappiamo e come abbiamo annunciato per primi, peraltro la prossima settimana, mercoledì esattamente, ci sarà l'incontro tra il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca e le categorie economiche, in primis Feder orafi, proprio di oggi l'intervento di Giordana Giordini. Nove episodi di furti e rapine nei soli primi sei mesi di quest'anno, sette nel 2023, tre nel 2022. A fronte di questa evidente escalation del disperato sforzo con il quale tentiamo di difenderci, è fondamentale che lo Stato intervenga senza indugi con uno speciale rafforzamento del presidio del territorio che blocchi ulteriormente crescita e radicalizzazione di questi fenomeni malavitosi. E' questo l'appello di Giordana Giordini, presidente degli orafi di Confindustria Toscana del Sud e della consulta Orafa, che interviene sul tema della sicurezza in vista della riunione in prefettura di mercoledì 10 luglio, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Siamo grati al prefetto, prosegue, che ha raccolto le nostre istanze dopo l'ultima rapina che dimostra la disinvoltura e la sfrontatezza dei malviventi che hanno agito in pieno giorno, aggredendo titolare, dipendente e cosprai urticante, mettendo a segno il colpo con un ingente bottino. Noi imprenditori non possiamo contrastare azioni di questo tipo. Gli strumenti di difesa passiva di cui dispongono le aziende non possono sostituire l'ordine e la sicurezza garantiti dalle forze dell'ordine. E a chiedere di ottenere rinforzi era stata proprio la stessa prefetta. In ragione proprio della particolarità che presenta Arezzo da questo punto di vista. Quindi la particolarità che si determina anche rispetto ad altre province di analoghe dimensioni proprio per la presenza del distritto Orafo. Va da sé che però l'azione deve essere corale e quindi da questo punto di vista ci vuole la massima collaborazione da parte delle aziende, la messa a punto di tutti i sistemi anti-intrusione e la verifica che effettivamente questi sistemi funzionano. Da parte nostra, da parte del Comitato, da parte delle forze dell'ordine c'è l'impegno massimo a garantire la presenza sul territorio che viene ed è stata anche implementata con la messa a punto e la messa in funzione di un numero cospicuo di telecamere che riescono veramente a monitorare tutta la realtà territoriale della città in modo tale da mettere insieme in campo tutte le forze possibili per rendere l'azione sempre più efficace e tempestiva. Zanzare al pronto soccorso della Gruccia in Valdarno una situazione insostenibile a raccogliere l'allarme dei sanitari era stato proprio il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai che ha chiesto in queste ore un intervento urgente alla ASL ci sono foto e video, aveva detto il sindaco che attestano un'invasione come mai era accaduto prima immediata la replica dell'azienda sanitaria abbiamo già messo in atto una serie di azioni per far fronte a questo problema nella giornata di sabato c'era già stato un primo intervento di disinfestazione un altro ci sarà nella mattinata di domenica e continuiamo a parlare di sanità questa volta però ci spostiamo in Casentino ci sono novità importanti dopo l'appello da parte dei sindaci alla regione toscana ci sono delle novità positive ma ci aspettiamo che ne arrivino altre risposte a quelli che sono dei servizi essenziali del territorio ricordo anche che nella sanità territoriale a breve andranno in pensione ben tre medici di medicina generale oltre a una pediatra di famiglia e quindi vogliamo delle risposte anche su questo certe e veloci in modo tale da garantire i servizi ai nostri cittadini è il sindaco di Bibiene, presidente della locale conferenza sociosanitaria dei sindaci a fare il punto sulla sanità in Casentino e l'appello alla regione toscana per la mancanza di medici e il bilancio tracciato presenta infatti luci ed ombre in questi mesi sono successe un po' di cose alcune positive altre invece purtroppo negative partiamo da quelle positive siamo soddisfatti come sindaci dei lavori che sono iniziati e che stanno procedendo con un buon ritmo per l'adeguamento antincendio del nuovo plesso dell'ospedale di Bibiena e sono iniziati anche lavori di demolizione del vecchio ospedale di Bibiena dove sarà invece costruita la nuova casa di comunità di questo siamo contenti è un intervento del PNRR che abbiamo voluto fortemente come sindaci già dal novembre 2021 e che finalmente si sta realizzando passando però agli aspetti invece negativi purtroppo ancora siamo a constatare la mancanza di professionisti sanitari non solo medici che senza dubbio sono le figure che mancano di più soprattutto al pronto soccorso che è a metà regime rispetto agli otto medici che servirebbero ce ne sono quattro in servizio ma non solo medici ci sono carenze anche di infermieri anche di OSS e di altre figure professionali sanitarie un ringraziamento va sempre a tutti i professionisti attivi che reggono la nostra sanità però c'è bisogno adesso di risposte e le pretendiamo da parte della regione toscana abbiamo dei consiglieri regionali del territorio peraltro un consigliere proprio casentinese che è anche in commissione sanità pretendiamo delle risposte certe e veloci perché il casentino non può essere lasciato indietro deve essere tenuto alto il valore sanitario della nostra vallata Elisa Calori è la nuova segretaria provinciale della Filtem CGL è stata eletta dall'assemblea della categoria che ha salutato il segretario uscente Gabriele Innocenti giunto al termine del suo percorso in categoria la Filtem è la federazione della CGL che organizza i lavoratori dell'industria e dell'artigianato chimico, farmaceutico, tessile, abbigliamento calzaturiero, vetro, energia e servizi parliamo adesso invece di scuola con una bella storia che ci arriva da Salleo alle porte di Arezzo Com'è questa scuola aperta d'estate? Bella Vi siete divertiti? Sì Ecco ma qual è stata l'attività che ti è piaciuta di più? Quella dei pianeti Siamo a luglio ma la porta della scuola l'elementare di Salleo ad Arezzo è aperta sono state due le settimane in cui le famiglie hanno potuto contare sull'apporto di insegnanti ed educatori grazie al progetto voluto dal ministro Valditara di tenere appunto le scuole aperte d'estate una sperimentazione che nell'Aretino si è concretizzata nell'istituto comprensivo Piero della Francesca Per due settimane i bambini della primaria e i bambini della secondaria di primo grado possono ritornare a scuola per queste due settimane con una serie di attività che non sono didattica nel senso stretto ma la didattica in qualche modo c'entra ma battiamo soprattutto sull'aspetto creativo artistico e come diceva la Montessori l'intelligenza è anche quella delle mani e noi cerchiamo di svilupparla in queste due settimane mi piace tanto sì perché si fanno così tante attività che mi sono affezionato e così in una proficua collaborazione tra scuola e terzo settore si dà una risposta in termini di educazione, socializzazione e didattica che non pesa nel bilancio delle famiglie la partecipazione è volontaria e gratuita opinione personalissima io credo che la scuola debba rimanere aperta fino a luglio con attività che impegnino il bambino ma che comunque lo scaricano dalle fatiche di un anno di apprendimenti che sono i nove mesi canonici della scuola qui il bambino ha due aspetti fondamentali la socialità impara a stare con gli altri qui ci sono bambini che vanno dai 6 anni agli 11 anni così come nella scuola media dagli 11 anni ai 14 anni quindi c'è un fattore di socialità il confrontarsi con i pari e poi c'è l'apprendimento dicevo l'intelligenza delle mani che è trasversale perché qui si è fatto sia matematica si è fatto storia si fa scienze e quant'altro ma viene fatto in maniera ludica attraverso il gioco si apprende tantissimo e poi la lingua straniera grazie all'Alpha British Center di Arezzo con delle teacher straordinarie fanno apprendere l'inglese in forma gioiosa ma significativa e poi quella che deve essere What's happening? I don't study for much test calm down Can I help you for studying? Yes 2 plus 2 is for ok Yes Thank you really Così come la cooperativa Spazio 3 è riuscita a coinvolgere 120 bambini dei quali nessuno ha manifestato mai un briciolo di noia Ci fanno fare un sacco di attività molto belle infatti facciamo la caccia il tesoro però peccato che duri due settimane Dovrebbe durare di più Per me è tanto Fino a domenica 7 luglio all'Arezzo Fiere i testimoni di Geova terranno la loro serie di congressi intitolati Annunciamo la buona notizia Ci saranno video, discorsi, interviste basati sulla Bibbia e il tutto includerà temi come perché abbiamo bisogno proprio di buone notizie la buona notizia secondo Gesù superiamo le difficoltà grazie appunto alle buone notizie si prevede aggiungono gli organizzatori che l'evento attirerà in città più di 15.000 partecipanti appunto in questo fine settimana Nel prossimo invece da giovedì 11 a domenica 14 luglio torna a Ponticino la festa provinciale e regionale delle Acli Il Coraggio della Pace è il filo conduttore della festa provinciale e regionale delle Acli nell'Aretino che si svolgerà a Ponticino dall'11 al 14 di luglio Certo, tra l'altro è anche il tema del congresso che si svolgerà in ottobre quindi è un tema insomma centrale che poi abbraccia anche le due tematiche che saranno dibattute nei due giorni il 12 e il 13 nell'ambito della festa il primo tema è quello sui diritti umani lo Stato e i diritti umani a livello internazionale abbiamo visione di quello che sta succedendo ovunque e l'altro tema è appunto il percorso della nostra democrazia Tra i momenti maggiormente di rilievo venerdì 12 luglio è prevista la presenza dell'euro parlamentare Marco Tarquinio il giorno successivo invece alle 18 sabato 13 luglio verrà presentato il libro da Camaldoli a Trieste Cattolici e Democrazia per continuare il cammino di Ernesto Preziosi Come vorreste insomma che la cittadinanza vivesse queste giornate? Secondo me è importante che partecipino perché la partecipazione è alla base del funzionamento di tutta una società e anche del mondo associativo anche della politica e della stessa democrazia di cui parliamo è un elemento essenziale senza la partecipazione tutto diventa pericoloso quindi sia gli aspetti sociali le strutture diventano sempre più autoreferenziali e il rischio appunto che poi non ci sia quella osmosi con i cittadini di idee, di progetti eccetera di condivisione che è importantissimo per i percorsi democratici È un momento di aggregazione di socialità ecco quello che in questi periodi in questi momenti che avevamo perso negli anni passati torniamo ad avere con continuità ed è questa la cosa più importante ci saranno eventi sia culturali che sociali ma anche momenti di intrattenimento musicale e anche appunto gastronomici perché insomma c'è anche l'aspetto gastronomico che da anni ormai ci contraddistingue Un aspetto che immagino riuscite a portare avanti grazie all'impegno di tanti volontari Certamente sì perché senza l'impegno e la continuità durante anche tutto l'anno di tante persone, di volontari che sia dai ragazzi che dalle persone più adulte e anche le persone anziane perché compongono il gruppo storico del circolo di Ponticino non sarebbe possibile organizzare una festa in questo modo e di queste proporzioni anche se appunto ripeto ormai è colladata ormai è tutto quanto però l'impegno è tanto Si è chiusa con un grande successo e ovviamente un tutto esaurito la dodicesima edizione del Passioni Festival tra le risate e gli applausi per Giobbe Covatta e Paola Catella e il loro commosso viaggiatore alla scoperta dell'Africa un successo di pubblico strepitoso in una serata indimenticabile come quella ospitata alla tenuta di Frassinetto la presentazione del libro moderata da Nicola Brandini è stato un vero e proprio one man show di Giobbe Covatta che ha fatto divertire il pubblico del Passioni che così insomma dà appuntamento alla prossima edizione la Casa Museo di Ivan Bruschi nel fine settimana quello della Fiera Antiquaria in occasione anche della manifestazione Shopping Sotto le Stelle che come sappiamo darà il via ai saldi estivi proprio nella giornata di sabato 6 luglio a una proposta rivolta a tutti gli aretini e anche ai turisti presenti in città per le ultime settimane della mostra La Libera Maniera arte astratta e informale nelle collezioni di Intesa San Paolo aperta fino al 21 di luglio verrà offerto l'ingresso al prezzo speciale di 1 euro questo per la giornata di sabato 6 luglio per domenica 7 invece torna all'appuntamento con l'entrata gratuita in linea con le quattro sedi di Gallerie d'Italia Polo Museale di Intesa San Paolo e siamo allo sport l'Arezzo Calcio Femminile annuncia il rinnovo del contratto della calciatrice Costanza Razzolini che continuerà a vestire la maglia amaranto Razzolini capitano della squadra è stata anche ospite della nostra trasmissione fattore D ha segnato 13 gol nella scorsa stagione contribuendo in modo significativo all'ottimo finale di campionato ed infine domenica prossima sarà una domenica di grande ciclismo perché a Rigutino torna il giro delle Valle Aretine una classica di prestigio per gli elite e gli under 23 di ciclismo partenza alle 14 sono già 148 i ciclisti iscritti in rappresentanza di 22 squadre tra queste la retina Rosini diretta a livello tecnico da Franco Chioccioli e da patron Piero Rosini organizzatore appunto anche della gara ideata e portata avanti per tanti anni da Corrado Livi nell'Albo d'Oro spiccano i nomi di Francesco Moser e di Marco Pantani è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci grazie per la visione